Buongiorno a tutti ragazzi, oggi ragazzi vi farò vedere i gol di Cagliari Parma Già c'è Atalanta-Milan, la partita sta per iniziare Quindi Atalanta-Milan già sta per iniziare E noi andiamo a vedere i gol di Cagliari Parma Il Cagliari stava perdendo con il gol del Parma Con Cusca, era in vantaggio il Parma E all'improvviso doppietta di Pavoletti nel Cagliari C'è proprio una partita bellissima Ora noi andiamo a vedere i gol di Cagliari-Parma E poi concludiamo questo video E poi appena finisce la partita di Atalanta-Milan Vi farò vedere i gol di Atalanta-Milan Andiamo a vedere Cagliari Cagliari Parma 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 Cagliari-Parma, un ottimo Che già sta per iniziare Atalanta-Milan Parma Ah Ehm Aspettato 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 Nella serie team Vediamo se ci vuole Goli Goli Aspettate Cagliari Parma 2-1 forse ce lo da 2 a 1 niente c'è questo di 13 secondi questo vediamo ok questo ok ragazzi sta per iniziare Cagliari Minan perché dico Cagliari Minan Cagliari Parma 2 a 1 per il Cagliari Cagliari 2 Parma 1 mettiamolo qua lo mettiamo qui aspettate lo mettiamo qui e vi dico buona visione quindi 3 2 aiuto il telefono è a 42 ok basta scherzare e ora ci vedremo i gol di Cagliari Parma 3 2 aspetta alziamo qui ok tutto alzato ecco a voi Cagliari Parma 3 2 1 buona visione il centro sinistra inizia la partita il Parma gioca il primo pallone con Stulaz e va a sinistra al limite Barella ai sta Marco Parma sta fuori tu primare minuto 40 Ionita e Pavoletti da una parte il cross arriva Cepiteri la prende buona sul secondo pollo spaccato sempre un po' la palla è entrata con Pavoletti che è andato sul pallone e ha fatto così 1 a 1 palli inattiva il Cagliari il cross arriva Cepiteri la prende buona sul secondo pollo spaccato sempre un po' la palla è entrata la ognuna offensiva attacca puntando Rigoni Barella la sposta il cross è bello in zona Pavoletti su altissimo Pavoletti fa 2 a 1 la riparta con un grave Barella la sposta il cross è bello il cross è bello Pavoletti su altissimo Pavoletti fa 2 a 1 la riparta con un grave Barella la sposta rapidamente il cross è bello Ok ragazzi, questi erano i gol di Cagliari e Parma Ok, aiuto perché l'ha avuto tutto Ma perché? Amici della Serie A Team, benvenuti al secondo anticipo della quinta giornata di campionato Ok Allora, questi erano i gol di Cagliari e Parma Ah, vediamo l'intervista di Pavoletti Aspettate Vittoria per voi Sì, sì, vittoria per voi Sì, sicuramente non era facile perché il Parma è un'ottima squadra Soprattutto si chiude bene e riparte con dei veri campioni Noi siamo stati bravi a tenere botta A prendere la partita anche sotto del gol A riprenderla E quindi questa notte ce la meritiamo Perché tanto che prendiamo schiaffi E stasera l'abbiamo dati qualche giorno Ok ragazzi Questi erano i gol di Cagliari e Parma Ora appena finisce la partita di Atalanta-Milon ci saranno i gol Ora ragazzi appena si pubblica questo video farò un altro video In cui vi farò vedere il mio album Quello nuovo in cui ho attaccato i doppioni Dopo questo video Dopo il video che caricherò Quello dell'album Ci sarà Atalanta-Milon I gol Appena finisce la partita Va bene? Quindi appena si pubblica questo video Passano dieci minuti Passeranno dieci minuti Allora Appena si pubblica questo video che state vedendo voi Devono passare dieci minuti E ne faccio un altro Che consiste l'altro video Che vi farò vedere il mio album In cui ho attaccato i doppioni E poi vi farò vedere la partita Di Atalanta-Milon I gol Appena finisce la partita Va bene? Ok E niente E niente Lasciate 20 euro con 30 iscritti E se mi ricordo E niente Ci vediamo al prossimo video Bella